Tutti gli uffici sono rimasti nei rispettivi territori, tutti i servizi hanno posizionamento sia a Siena sia ad Arezzo. Non è stato perso un posto di lavoro, i colleghi continuano a lavorare esattamente come lavoravano prima sulle stesse materie. Giuseppe Salvini, segretario della nuova Camera di Commercio Arezzo-Siena, rassicura tutti, nonostante Arezzo con questo accorpamento abbia perso la presidenza in favore di Siena, non cambierà nulla, dice. Il Consiglio, composto da 33 membri, si è già riunito in quella che è stata designata come la sede legale, gli uffici di via Spallanzani ad Arezzo. L'ente diventa così di vaste dimensioni con 83.000 imprese e copre un terzo dei comuni toscani. Adesso il Consiglio dovrà riunirsi per comporre la Giunta e scegliere i vicepresidenti, da lì inizierà il programma vero di mandato. Una struttura che fosse diffusa ancora di prossimità accanto alle imprese nei rispettivi territori, quindi anche sul versante delle imprese non ci saranno, da questo punto di vista che è il mio, dei servizi, dell'operatività, dell'organizzazione, alcun cambiamento. E ad Agrietour 2018 la prima uscita pubblica del nuovo presidente Massimo Guasconi. Camera che è tra le più grandi dal punto di vista anche numerico, insomma Arezzo poi ha questa componente dell'oro, lei conosce già questo settore o lo conoscerà? Sicuramente lo conoscerò meglio, ovviamente non è che lo ignoro, anzi voglio dire ho già cominciato a prendere i primi contatti, a conoscere, informarmi su queste specificità che ovviamente fanno grande, hanno fatto grande Arezzo anche nella storia, per cui abbiamo comparti importanti entrambi, sappiamo di essere una Camera di primo livello, quindi sicuramente un interlocutore importante e pesante con tutte le altre istituzioni, abbiamo un terzo del territorio regionale, oltre 76 comuni su 270, una popolazione di oltre 600 mila abitanti, quindi crediamo di poter davvero fare una massa critica importante, comunque per il territorio in senso stretto, ma soprattutto per l'economia, le nostre imprese e le nostre aziende. Grazie.